Mercato di Mircil, 8 maggio Buongiorno Medico, imbonitore, raccontatore di favole, di miti passati. Buongiorno. Acquisto di cotone a chilo, la bilancia a via. Costa 60 dirham al chilo. Costa niente. 60 al chilo. 6 euro al chilo. Sono 3 euro. C'è problema di peso? No, ma la bilancia a peso è male. Io per 3 euro. Un dito a gattri per le brecchie. Un dito a gattri per le brecchie. Un dito a gattri. Buongiorno. Grazie a tutti.